Il tuo ruolo all'interno della Chiti Calcio qual è? Beh, oggi dicevo che ho fatto la mascotte, perché sono stato invitato dal presidente e anzi mi ha detto che ho portato pure fortuna e quindi sono felice. Anzi, ha detto che ogni domenica devo venire qua a vedere la partita. Con molto piacere tornerò. Ecco, ti interessi di sport, calcio oppure altre discipline sportive? Sì, allora di base faccio bodybuilding, quindi non è che guardo le partite, però ogni tanto mi capita, vivendo a Milano vado a vedere il Mila, l'Inter, insomma la Serie A. Insomma è stata una partita di Serie D, giusto? Sì, di Serie D. Però è stata molto emozionante, puoi vedere così i ragazzi belli carichi, è stata proprio emozionante.